La Golosa di Puglia si aggiudica il premio Quality Award 2019 su due prodotti, la burrata e l'intera linea del cacciocavallo. Abbiamo qui Pasquale Cinieri, amministratore delegato della Gioia Bella. Quanto è importante aver ricevuto questo premio di qualità dai consumatori? È molto importante perché è il risultato di tanta ricerca, tanti sacrifici per ottenere un prodotto di qualità e una grandissima soddisfazione aver ricevuto un premio così importante. E quanto è importante essere oggi qui a Marca? Qui c'è la visione di tutta la grande istituzione italiana, ricevere un premio in questa fiera è una maggior soddisfazione, una maggior visibilità. Quali saranno i vostri obiettivi per questo 2019? Sicuramente una crescita del fatturato, anche perché è in corso un ampliamento dello stabilimento abbastanza notevole e quindi dobbiamo cercare di lavorare quanto più possibile per effettuare la crescita che ci siamo preposta. Grazie a Pasquale anche per averci ospitato in questo bellissimo stand della Golosa di Puglia e in bocca al lupo per questa fiera. Grazie a tutti.